Ciao ragazzi e ragazzi, Tentation Island VIP, commentiamo il mio argomento preferito. Parliamo della coppia che ci ha regalato un finale da favola, Chiara e Simone. Avevamo lasciato Chiara che nell'ultimo falò ha maturato delle consapevolezze che l'hanno portata a prendere una decisione importante e definitiva che pone fine al suo percorso. Prima di comunicarlo a Simone, Alessia gli fa vedere un video così che lui possa capire cosa è successo alla sua fidanzata. In questo video esce fuori il rapporto che c'è tra Chiara e Antonio. Lei precisa più volte al suo tentatore che lei crede nell'amicizia tra un uomo e una donna, ma nota che Antonio non vuole essere solo un suo amico. Ed esce fuori che Chiara ha le idee ben chiare sui sentimenti che prova per Simone. Ed ecco che Simone ha avuto le sue risposte. E con il sorriso sul suo volto ecco spuntare correndo Chiara che abbraccia con tutta se stessa il suo amato Simone. E nessuno li sconfiggerà così proprio come hanno detto loro. Ragazzi, finalmente un finale stravolgente e romantico. Non se ne può più di tutti che appena entrate al villaggio hanno dubbi, si lamentano e si buttano sul primo o la prima conosciuta. Come se stare insieme con il proprio uomo o donna è solo una sofferenza. E' proprio bellissimo vederli insieme con sentimenti così forti. Viva l'amor e i veri sentimenti. E poi, è piaciuto questo gran finale? Commentate, commentate, commentate. E a presto con un nuovo video. Bye bye! Ciao!